Allora, il Cristo al centro che dà il pane, i discepoli che lo accolgono, c'è un discepolo che lo accoglie come se fosse già la carestia e dovunque uno guarda c'è sempre uno sguardo che richiama il Cristo, c'è un incredulo, infatti non ci sono le mani, sembra un po' che sta lì per caso, c'è chi già crede a questo miracolo e va e chiede e c'è già il discepolo che ammirato dal padre, dal maestro, comunque già va in viaggio. Poi ci sono le sacche, le ceste piene e abbondanti della grazia di Dio e secondo me non solo nello spazio ma anche temporalmente, sembra un po' proprio traboccanti e credo che tra queste, una di queste ceste è la missione di Cinque Pani e Due Pesci. Cristo dà il pane però è come se desse già l'eucaristia, infatti un discepolo l'accoglie proprio, non la può toccare direttamente, l'accoglie come se fosse il corpo di Cristo e infatti la stessa frase del Vangelo, voi stessi date l'oro da mangiare, secondo me l'ha pensata proprio Gesù, cioè prima ha dato il pane e poi ha dato se stesso quell'eucaristia e quindi credo che sia anche la missione di Francesco e Alessandra, voi stessi date l'oro da mangiare. Grazie Mimmo! Grazie a tutti!